secondo episodio con il gioco delle tartarughe ninja siamo con il nostro michelangelo e ho scoperto che ci sono anche dei livelli opzionali richieste speciali appartamento di irma cos'è domanda a non posso fare nulla io qua no a giocando trovo questi diari immagino vabbè allora noi andiamo avanti intanto al terzo livello location broadway famosa meta americana vabbè eccoci qua figo è fighissima questa cosa rega che è successo ho fallito un obiettivo una challenge vabbè 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 non è un grosso problema non è un grosso problema aia aia malissimo presa bello ma è bellissima questa cosa ragazzi è veramente bellissima io amo tantissimo questi tipo di esperienze nooo mi ha mi ha mi ha beccato come si fa a schivare questi cosi che sparano vabbè vabbè rega non sta andando benissimo questa seconda parte per nulla proprio mi stanno distruggendo la vita ma una vita non c'è appunto no eh oh cazzarola ma vorrei una vita ma sto per morire con incondizioni critiche a dire poco no eh no no sono bastardissimi questi comunque eh diciamolo sono veramente bastardissimi sti cosini ok 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 no mi ha preso oh eh ora ora dopo mezz'ora mi arriva una vita grazie gentilissimi sempre in orario eh come si fa non c'è neanche modo di ammazzarli ah ok sono riuscito nell'impresa non so come una mossa speciale no 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 chi è vabbè lì si fa a beccare ah devo saltare mi sa eh eh si si devo saltare per colpirlo se no non lo colpisco ora ho capito non è che funziona pure con questi qua ah no 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 figa bastava saltare eh chi lo sapeva ora l'ho scoperto mo un po' tardi però vabbè meglio tardi che mai dicevano ai tempi meglio tardi che mai meglio tardi che mai è un casino è un casino è un casino un casino ecco che cavolo ma è difficilissimo dai uno l'ho fatto fuori non so come un altro fuori tre quattro e cinque vamos molto bene molto bene vita 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 datemi un po' di vita mi prego aia boss fight mi sa boss fight mi sa eh mi sa allora devo riuscire ad avvicinarmi non so come però è un casino no mi ha inchiodato mi ha inchiodato mi ha inchiodato no vabbè difficilissimo è difficilissimo è difficilissimo cosa eh ma come faccio a schivarlo no vabbè raga è illegale è illegale è veramente illegale è illegale è illegale è veramente illegale mi becca lo stesso mi ci provo eh però mi becca lo stesso te la posso fa' ce la posso fa' ce la posso fa' ce la posso fa' ce la posso fare ce la posso fare vabbè ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta non so come ma ce l'ho fatta questo era l'importante tosto sto livello eh piuttosto del previsto piuttosto del previsto ok ok lui si è incattivito un botto comunque ci ha visto vincere non è possibile allora livello 4 rumble in the zoo ok siamo allo zoo in poche parole quando ho fatto una sega cioè di challenge vabbè comunque non è importante andiamo avanti andiamo avanti location central park zoo central park è sempre bella aia cosa parte male così eh mi parte molto molto male no no volevo saltà tosta 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 ok 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 io ne avrei messi un po' di più di nemici eh ne manca qualcuno ne manca oh un segreto l'ho trovato inaspettatamente tra l'altro via 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 ma sono stronzi vestiti con la cordicella no sono un poco simpatici atti da found sto trovando qualche segreto perchè bene o male ho capito dove sono i segreti io diciamo che è abbastanza facile no dai capisci bene o male quello funziona no è abbastanza semplice e e con gli arcieri poi no vai 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 ah ma compaiono solo ogni tanto gli arcieri non sempre io pensavo sempre meraviglioso 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 ciao ciao ah e vabbè ho capito quanti sono cioè scusate ok comunque questo livello è bellissimo ragazzi eh e che forse è quello che mi sta piacendo di più in generale e che perciò sono bastardi questi eh e e e e via, faccio qualcosa, no si vabbè, sono troppi disgusting bug trovato che sarebbe il bug cos'è già, mi sa non mi ricordo, non mi ricordo oddio mi ricordavo è quello di bello adesso vabbè, finché non mi ricordo cos'è non sto in pace con me stesso quindi quella verità cos'è cos'è vabbè raga, ditemelo voi nei commenti perché io ho capito cos'è ma il nome tecnico non me lo ricordo non me lo ricordo proprio bello che è facile ricordarsene comunque niente di così impossibile no dai dai dai, benissimo eh, ho capito però come fai a schivarli quelli domanda non è facile boss fai, di già ah, sono due stavolta addirittura per non farsi mancare niente vabbè però mi sembrano anche più facili eh vabbè lo monto cavolo lo sono finito io vabbè la cosa bella è che mentre favo la mossa, no? ammazza anche il suo amico è fantastica questa cosa aiuto guarda che sto morendo infatti sono morto però ho il respawn a favore eh, tosta, tosta quando lui corre è tostissima allora, 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 allora sì allora fai te niente non si riesce a non c'è modo non c'è modo è incredibile quanto è sbilanciata questa cosa è morto sono morti entrambi non so come non so come meraviglioso meraviglioso stavolta sono morto solamente una volta mi è andata abbastanza bene devo essere sincero mi è andata abbastanza bene sono contento sono molto contento bene bene è bellissima quella faccina che piange è una cosa di veramente bellissimo allora cos'è Tartal Layer? ah, tipo obiettivi credo penso di sì allora mi faccio un altro livello facciamoci un altro livello dai tanto che siamo qui King of the Spill location savers of New York siamo a New York penso che si chiama metropolitana se non sbaglio infatti sì bello pensavi di beccarmi eh pensavi e invece no stavolta sì però vabbè aia bastardo no mi ha peccato oh k no bastardissimi dai che passa il treno bella beh sto imparando un po' a giocare non sarò un pro però dai ma così non la sto imparando pian piano cos'è questo? cosa ho trovato? non lo so non ho capito cosa ho trovato non mi è molto chiaro cosa ho trovato ma ok facciamo una finta che mi è chiaro a così a così ma cosa ho trovato? ma cos'è? una mossa segretissima ho fatto 105 danni meraviglioso non mi era mai successo mi sa credo no mi è scappato dai posso andare anche giù? pensavo che questo fosse acido invece non frega mi ammazza nessuno ho trovato qualcosa ottimo ma lui può fare qualcosa o non è fredda una matta lui aia ha fatto una challenge tre nemici uccisi usando le trappole molto bene molto bene immagino che sia anche quelle sopra le trappole è così la logica direi di non non dovermi sbagliare ok ok comunque sono veramente maledetti quelli sono veramente maledetti quelli che saltano ti lanciano le come si chiamano no quelle tipo specie di ah oddio di lame gli si chiamano già il gergo tecnico sarebbe anche un gergo tecnico ma dettagli via 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 perfetto quello chi è? la boss fight le sa rat king i rai dei ratti bellino eh tos 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 e la madonna sono morto brutalmente sì vabbè così più facile forse guarda che mi hanno comunque preso però è fastidiosissimo no se ti piglia è una roba veramente incredibile e lasciatemi stare ma li mortacci non è possibile ok per farcela ce la faccio un'altra vita non è un problema però comunque è bello tosto questo è bello tosto sono morto infatti un'altra volta niente è nato il tempo di rinascere che già ok 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 ce l'ho fatta la difficoltà ma ce l'ho fatta ho fatto un'altra challenge tra l'altro vabbè wow veramente wow niente ce l'hanno ancora rubato mentre io esultavo ma perché cosa esulto si stanno fottendo la roba esulta questo particolare particolare vabbè rega allora io esco intanto michelangelo livello 3 è arrivato è cresciuto di livello non so quanto sia il massimo di livello sapete non ci ho guardato comunque ragazzi ci becchiamo per il terzo episodio più avanti e vi ringrazio per la visione e vi ricordo anche i link in descrizione per supportare il canale ciao ragazzi alla prossima